Grazie di cuore, la famiglia retusca, lì sul palco scelto per voi. Grazie di cuore, la famiglia retusca, lì sul palco scelto per voi. Grazie di cuore, la famiglia retusca, lì sul palco scelto per voi. Grazie di cuore, la famiglia retusca, lì sul palco scelto per voi. La famiglia retusca, lì sul palco scelto per voi. Grazie di cuore, la famiglia retusca, lì sul palco scelto per voi. Grazie di cuore, la famiglia retusca, lì sul palco scelto per voi. La famiglia retusca, lì sul palco scelto per voi. La famiglia retusca, lì sul palco scelto per voi. Questo posto e vi ringraziamo per averci fatto assaggiare questo territorio bellissimo. E ovviamente voglio presentarvi i miei fratelli della baracca retusca, che va avanti e non si ferma mai. Per l'ultima data di quest'anno, come sempre, da millennia questa partita, lì sul palco scelto per voi. La famiglia retusca, lì sul palco scelto per voi. La famiglia retusca, lì sul palco scelto per voi. Direttamente da Roma alla chitarra, Monsieur Emiliano. Direttamente da Catania, alle elettroniche e alla voce alla chitarra, Mr. Joe, lui. E sempre da Roma, il nostro pilastro alla bassa, Monsieur Gabriele Lazzarotti. Da Torino alla batteria, Mr. Davide Compagnoni. Ma la voce alla chitarra, rappresentando Lusalento, mio fratello e mia irmana qui presente, l'eroe dei due mondi, la voce che musica a Ciazzalina Vespa, colui che ha portato il messaggio di Aristotele in Cina, Ciccina, Dicciotti, colore del sedentore, Mr. Moreno, quello vero! Yo! Non mi fermo mai davanti al primo topo, ma purtroppo, se non sei amico degli amici, resti fermo in stop. Anche se il mio suono resta in top, hanno avanti i flop e continuo a chiederti per tempo. La mia musica colpisce dito che sotto ogni pianto, non c'è delle comande, sanno tutti che io canto. Potrò dare riposo come nello spotting fix, questo è il mio fattore, ma ne è di certo fix! Freestyle, bestia! Super, ma si può!